Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quanto manca, quanto manca un giorno, un giorno e mezzo scarso e poi finalmente ci siamo! Nuova Season! Oramai non si parla d'altro sui forum, su YouTube, su Reddit, in tutta la community perché effettivamente i teaser per la nuova season promettono davvero tanta tanta roba! Ne abbiamo già visti tre ragazzi, oggi arriverà l'ultimo e dovrebbe chiudere l'anello di tutta la linea temporale che dovremmo riuscire a vivere insieme nella stagione numero 10! Nel video di oggi infatti parleremo anche della prima modifica alla mappa già disponibile in game! Non so se ve ne siete accorti ma qualcosa è già stato modificato! Parleremo ovviamente della season 10 vedendo i teaser e facendovi anche vedere delle cose che arrivano dall'est del mondo per farvi capire un po' meglio! E ragazzi non dimentichiamoci l'evento di congiunzione tra la season 9 e la season 10 che è l'evento di sponde! Andremo un attimino ad approfondire ancora pochi secondi per renderci conto di quello che dovremo aspettarci! Prima però voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyudarone! Grazie di cuore ragazzi per supportarmi tantissimo quando soppazzate di prepotenza! Mi raccomando iscrivetevi tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Prima ce l'ho! Ce l'ho! La domandina! La domanda! Ve la faccio raga! Ve la faccio sempre! Mi rispondete in tantissimi qua sotto nei commenti e oggi la domanda è davvero molto importante! Servite proprio voi! Forza ragazzi! Tiriamo le somme! Che voto daresti alla season 9? O meglio, come ti è sembrata? Vediamola un pochettino più corposa! Ragazzi, che voto darei alla season 9? Da 1 a 10? 7! 7 perché? Innanzitutto merita la sufficienza al 100% Bella come season pulita! Ecco la dico, una season pulita anche se è un po' Una season degli spammoni Bellissimo l'evento, quindi ci stava su lì Non hanno assolutamente sbagliato Un po' appunto va a perdere per il discorso spam Purtroppo questa season è stata veramente una mazzata Tutti che ti entrano con 100.000 colpi E come sempre non merita secondo me un 8 Perché non ci sono state dinamiche davvero importanti Nella storyline e durante questi mesi in cui l'abbiamo vissuta Quindi sono curioso di sapere invece qual è il vostro voto per la season Ma quindi! Ciancio alle bande! E bando alle ciance! Andiamo subito subito a vedere ragazzi Un attimo i teaser usciti Tiriamo un attimino le somme Questo lo abbiamo visto tutti nella World Cup Durante l'anteprima In anteprima durante la World Cup Come vedete i tre magazzini Stiamo facendo riferimento con questa immagine Alla season numero 3 Veniva detto come descrizione Guarda al passato Il giorno dopo esce questo teaser Che abbiamo visto essere relativo al visitor Quindi al visitatore Per tutto quello che vi ho già fatto vedere I loghi Il personaggio che guida questo robot gigante E se vi ricordate bene Il visitatore era relativo alla season numero 4 Quindi una linea cronologica È già collegata E ieri arriva il teaser più interessante A parer mio di tutti Che fa riferimento alla season numero 5 Questo teaser ragazzi Ha delle particolarità abbastanza notevoli E lascia capire abbastanza cose Innanzitutto andiamo a dare un'occhiata Alla versione cinese del teaser Come vedete cambia Vi faccio rivedere il nostro Vedete che sopra di me C'è uno scheletro Beh nella versione cinese Non c'è lo scheletro Non perché sia un'altra skin Ma per lo stesso discorso di cuore nero Quindi parliamo della skin All'inizio del pass battaglia Della season numero 8 In Cina Non si possono mostrare i teschi Quindi ragazzi È stato presentato Questo personaggio Che non è nuovo Ma andando avanti sempre ragazzi Ecco qua A chi fa riferimento Stiamo ragazzi vedendo Una versione malvagia Dell'avanguardia oscura Come faccio a sapere Che è dell'avanguardia oscura Se torniamo indietro un attimino Molto rapidamente con le immagini E mi sposto io Vediamo se riesco a spostarmi Altrettanto rapidamente Guardate il vestito del teschio E adesso guardate Dove siamo andati L'avanguardia oscura Vedete che è praticamente Lo stesso Semplicemente che Nella versione cinese Si vede con un nuovo Elmetto Andando avanti appunto Qua lo notiamo Ancora meglio Possiamo vedere Che invece la skin Di destra È un chiaro Riferimento Alla skin Alla deriva Ma secondo molti E anche secondo me Non si tratta Della versione maschile Guardate semplicemente Le orecchie ragazzi Si tratta Della versione Femminile Della skin Alla deriva Che sembra davvero Essere Malvagia Tra l'altro Abbiamo già visto Un'anteprima Della skin Femminile Di alla deriva Nel portachiavi Del backpack Della skin Del robot Femminile Quella che c'ha Il giubbottino rosso Non mi ricordo il nome Nel backpack C'aveva il portachiavi Con la faccia Esattamente uguale Alla maschera Che vediamo Liccata Nel personaggio Di destra Ma andando ancora Di nuovo ragazzi Nella pagina ufficiale Cinese Di fortnite C'è una scritta Che è stata Ovviamente Giapponese Scusate Che è stata tradotta Ed è Distorted space time Quindi Spazio tempo Distorto Ed è Molto Giusta Come traduzione Collegandosi A quello che Già stiamo dicendo Dell'evento Della sfera Sapete che La sfera È molto instabile E potrebbe Una volta esplosa Perché Questo dovrebbe capitare Alla sfera Creare Uno spazio Temporale Distorto Che appunto Riporterà Delle cose Del passato Ma probabilmente Non solo Andando avanti Ragazzi Così Senza slide Andando avanti Parliamo anche Di questa immagine Che è la più importante E che è relativa Alla prima Modifica Per la season 10 Nella mappa Della season 9 Stiamo ovviamente A sponde del saccheggio Siamo nella parte La sfera è come se Ce l'avessimo Dietro di noi Guardate Quell'albero Là in alto Ragazzi Quell'albero Fa un chiaro Riferimento Agli alberi Della vecchia Season E non è Prima ero Salice piangente Uguale a quelli Che ci sono dietro È stato Modificato Da Verso le 23 Dell'altro ieri Se non Ricordo male Non ho avuto modo Di inserirlo nel video Perché avevo già registrato Ma È un chiaro riferimento Al passato Ragazzi E non è Escluso Che in questi In quest'ultimo giorno Possa magari arrivare Un'altra modifica Che vada a Prendere spunto Da qualcosa Che esisteva Nelle season precedenti Per Questa season E chiudo ragazzi Il video Parlando ovviamente Della sfera Volevo condividere con voi Il gameplay Anzi Il footplay Attuale Della sfera Che come vedete Oramai giunta Prepotentemente Alla terza fase Quella più instabile È assolutamente Pronta Ad esplodere Quanto prima E A fare Un grande casino Molti dicono E io condivido Che quasi Certamente Vedremo La vera e propria Esplosione Della sfera di sponde Del saccheggio Nel trailer Della season Numero 10 Vi ricordo ragazzi Che noi giovedì Il primo agosto Saremo in live Dalle 8 Del mattino E vi aspetto In tantissimi Perché vivremo Insieme Tutto il passaggio Dalla season 9 Alla season 10 Con tutti i leaks In tempo reale Collegati Con tutto il mondo Io vi ringrazio Tantissimo Per avere guardato Questo video Un bel pollicione In su Iscrivetevi al canale Noi Ci vediamo Alle 8 In live Ciao 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 Ciao